Ciao bambini, piccolini... Cosa è successo? Scusate, ma volon dei regali qui a Drevin questa settimana, siamo a Natale, volono regali a destra e a sinistra... Per piacere non tirate regali! Siamo arrivati al club dei piccoli fans, mamme, piccini, ragazzi... Cos'era maestro? Un panettone di legno? Che male! Scusate, ma qui mi prendono in giro, ma d'altra parte è una festa... Basta! Nella festa dei bambini, questa settimana abbiamo gli emuli di un grande gruppo musicale canoro italiano, ci hanno messo anni e anni questi mucchietti di ossa a mettersi insieme e ad essere... Non ridete, sono gli emuli di questo grande gruppo che sono, ve li presento subito, i ricchi e i poveri! Eccoli qua! Volevo, 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 volevo danse! Volevo, volevo, volevo danse! Volevo, volevo, volevo danse! Benissimi i ricchi e i poveri qui nella rubrica piccoli fans! Stop! Grazie, molto gentili! Ecco, vorrei iniziare l'intervista dei ricchi e... Sì, non iniziamo con gli scherzi, bambini, voi siete emuli di un grande gruppo, un gruppo serio che si è formato negli anni! Sì, lasci qua il microfono, lasci qua il microfono, non tocchi niente, cominciamo l'intervista! Come sei cattivo però a te, no? Io non sono cattivo, non sono cattivo, sono uno preciso, vuole fare le cose per bene e... Un attimo zitto! Ecco, proprio... Un regalo per lei, ce lo vuole? Pum! L'ho preso al volo! Bene, l'intervista... Come vi siete formati? Quando è stata la prima volta che vi siete visti e avete cantato la prima canzone che avete cantato? Volevo, volevo, volevo danse! Volevo, volevo, volevo danse! Volevo, volevo, volevo danse! Volevo, 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 volevo danse! 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 Vole 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 danse! Ma scusi, lei... Ma scusi, questo è il Brunetto! Qual è il Brunetto? Questo è un mostro! È il mostro dei ricchi e poveri, questo! Ma è come il mostro, guarda! No, no, Brunetti! Che bella! Fammi una solo tu, Brunetta, dei ricchi e poveri! Tu che sei bravissimo! Una solo! Stia fermo! Una solo! Vedo che è una leggera anomalia qui, cosa succede? Una solo! Facci la salva! Ho fatto la salva, l'ho fatta! Ma voi mi state prendendo in giro! Mi dia la cartelletta! Forza! Cantare! La canzone, il vostro primo pezzo! Adesso non scherzo più, eh! Né con lei, né con lei, né con lui! Voglio sentire il primo pezzo, il vostro successo! Che non sia Volevo! 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 Mi può fermare i bracci, scusi! Volevo da sé! Forza! Questa ce la paghi, però, eh! Questa te la dico io! Pronti? Volevo! 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 Volevo da sé! È una litania! È una litania! È una litania, maestro! Inizio col pezzo classico che lo canto io! E mando via anche loro! Paese mio, ti bacio sulla bocca! Volevo! Grazie a tutti.